Io muoio sempre contro le streghe, no, signora strega, è inutile che lei ride, è inutile che lei ride in questo modo C'è pure uno scheletro, c'è pure uno sch- No, 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 lasciatemi stare, lasciatemi stare Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi sto registrando con la febbre, quindi se sentite che ho la voce un pochettino diversa è per quel motivo E soprattutto ragazzi, sì, anche con la febbre non si molla nulla, noi continuiamo tutti i giorni Perché non posso di certo fermarmi soltanto perché ho un pochettino di febbre, che cosa sono, un billy? No, non sono un billy, quindi tu lascia un bel mi piace adesso a questo video immediatamente Perché oggi avremo tantissime cose da fare Prima di tutto per esempio dobbiamo togliere tutta questa terra Perché nello scorso video mi avete consigliato tutti quanti, e non so per quale motivo non me l'avete consigliato prima Mmm, forse non ci avete pensato Comunque mi avete detto tutti quanti di togliere questi quattro blocchi di terra perché non servono a nulla E mi avete detto praticamente che anche con un blocco soltanto cresce tranquillamente l'albero Io non lo sapevo, pensavo ce ne fossero bisogno di almeno quattro Quindi adesso li toglieremo perché altri mi hanno detto Sì, Kendall, puoi andare pure in creativa, tranquillo Ti prendi altra terra perché non ne hai abbastanza Altrimenti come fai ad andare avanti? Avete ragione, però per adesso non voglio andare in creativa Quindi se ci dovessi andare lo faccio poi magari in qualche altro episodio Adesso non ho proprio voglia Comunque qua abbiamo una piantagione veramente gigante Ma ripiantiamo il nostro meloncino Molto molto bene Ok ragazzi, iniziamo ad avere tantissimo cibo Così tanto cibo addirittura da poter mangiare sia a pranzo che a cena Vi rendete conto? Eh? Prima non potevo, prima potevo mangiare una volta soltanto in tutto il video Altrimenti poi sarei morto praticamente Cioè non avrei avuto più nient'altro da mangiare negli altri video Comunque, mettiamo tutto qua Se vi ricordate nello scorso episodio ragazzi abbiamo avuto Eh, diversi problemi Non so se vi ricordate con i mostri Eh, io mi ricordo purtroppo perché mi hanno distrutto tutto quanto In pratica, prendiamoci uno di pane E rimangiamo E abbiamo bisogno di una bella pala Ora, prendiamo questa pala e cerchiamo di non fare cadere assolutamente alcun blocco di terra Giù perché se dovessero cadere io mi arrabbierei tantissimo In quanto sono super preziosi Quindi vieni qua terra Nooooooo Qualcuno ragazzi editi questo video e metta la canzucina quella triste La, sotto mentre perdo la terra Ok, così me lo sono preso Molto bene Ora, attenzione Dobbiamo mettere però delle slab Perché dobbiamo chiudere questi buchi Altrimenti c'è il rischio che io ci cada dentro Perché come vi dicevo Ho la febbre E con la febbre si fanno tantissime cretinate Quindi noi dobbiamo stare attenti ovviamente Dobbiamo essere molto vigili E soprattutto non dobbiamo assolutamente sbagliare niente Quindi riposizioniamo questi blocchi 1 e 2 E ci prendiamo ora anche questo Vieni qua, ok Uh, stavo quasi per scappare Ora togliamo anche questo perché ci dobbiamo prendere tutta questa terra Nooo, perché? Perché il primo va via? Nooo, ma ragazzi Ma, ma dai, ma allora Eh, infatti Ma mi prendi in giro allora Ora, lo so che c'è un modo più sicuro per prendersi la terra Ovvero basta mettere i blocchi là sotto Con un po' d'acqua eccetera eccetera Però non mi va ragazzi Non ho proprio voglia di fare tutto quel procedimento Quindi per adesso ci accontentiamo anche di quei pochi blocchi che abbiamo perso Fa nulla Cioè, alla fine non sono proprio così vitali eh E intanto abbiamo trovato un bel meloncino della terra No, no, no Ma perché il primo cade sempre? Eh, anche il secondo Ma allora c'ho veramente Eh, anche il terzo Ma che sfortuna c'ho Oh, ma a questo punto non li toglievo e basta E ora sono sicuro che già nei commenti siete pronti voi Tutti quanti a massacrarmi E a dirmi Oh mio Dio, Kenna, ma che stai facendo? Ma perché? Hai sbagliato tutto? Oh no, li hai persi Ragazzi, dai, capita eh Capita Non dovete essere troppo cattivi con me Soprattutto devo fare simmetrica le cose io Perché altrimenti sapete bene che se no le cose non mi piacciono Ci dobbiamo dare una mosso perché si sta facendo notte E se si fa notte ragazzi sappiamo bene tutti quanti cosa succede Si riempie di nuovo qua tutto quanto di mostri E io rischio la mia vita un'altra volta Ora quanti blocchi ci sono? Uno e due Quindi uno, due E questo qua si deve togliere Ok Piazziamo adesso questi altri due blocchetti di terra Quindi Beh, bene o male ragazzi abbiamo recuperato ben cinque blocchi di terra E se ci pensate ne avremmo dovuti recuperare molti di più Comunque quattordici blocchi non sono assolutamente male Ripiazziamo subito tutti i saplings Ok Così Così E ora direi di riempire tutto quanto qua di torce Perché se non metto le torce ragazzi durante la notte io muoio Quindi qualche ragnetto mi farebbe molto comodo se volesse spuntare Poi signor ragno se lei non vuole spuntare fa nulla Ma io potrei preparare una bellissima cenetta Allume di candela o allume di torcia di lava come meglio preferisce lei E cosa mangiano i ragni? Credo che i ragni mangino altri insetti Però non ci sono altri insetti su minecraft Ragazzi sto delirando questa è la febbre ecco Comunque ragazzi mi è venuta un'idea Allora mi avete letto tutti quanti nello scorso video di fare un mob spawner Ora il problema del mob spawner è che non ho abbastanza materiali per farlo Serve veramente tantissima cobblestone Noi ne abbiamo soltanto 20 fino ad ora Ora lui uccide lo scheletro Cioè lo zombie Lo zombie uccide lo scheletro e così via Quindi io intanto ti piccio Tu ti piccio pure a te Sì dammi tutte le tue ossa Dammi tutte le tue ossa Perché cadono sempre Come vi dicevo ragazzi Servono tantissimi materiali per fare un mob spawner Quindi non possiamo effettivamente creare un intero mob spawner di quelli funzionanti Per uccidere tutti quanti i mostri Quindi ancora non possiamo fare una cosa del genere Però non appena si fa di nuovo giorno Creerò una piccola casetta diciamo Una casa abbastanza grande Anzi non proprio piccola Abbastanza grande da contenere tanti mostri Che poi uccideremo noi il giorno dopo O rompendo sopra Quindi facendo venire tipo la luce del sole sopra dentro la casetta Quindi in quel modo brucierebbero tutti quanti Oppure utilizzando questa lava Perché abbiamo un secchio di lava qua E altri tre secchielli da poter utilizzare Quindi credo che questa sia un'ottima idea Poi ovviamente fatemi sapere voi nei commenti Se vi piace o meno E cercheremo di costruirla proprio in questo episodio Io mi sento morire ragazzi Perché come vi dicevo Con la febbre non è proprio facile giocare Registrare eccetera eccetera Però ce la dobbiamo fare Ci devo riuscire ragazzi Prima dobbiamo costruire questo mob spawner E poi possiamo anche finire l'episodio Intanto ci siamo presi veramente tantissima cobblestone 37 Ok non male E tu c'hai una bella palla in ferro Mi potrebbe servire Mi potrebbe tornare molto utile Quella palla Me la droppi? Ovviamente non me la droppa Ovviamente Oh ciao Greeper Tu pensi che io adesso faccia esplodere tutta la mia isola? Hai capito male Non sono mica uno stupido Non sono uno stupido come te Muori Dammi tutto quello che hai Oh ma c'è una festa là sotto allora Sono stato invitato? Ovviamente non sono stato invitato Vabbè per ora li lascio lì Perché tanto non mi danno assolutamente fastidio Non ci possono nemmeno arrivare contro di me E tra non molto sarà giorno Quindi moriranno tutti in ogni caso Tra l'altro ragazzi Io ho notato che i mostri spuntano tutti quanti là sotto Quindi sarebbe perfetto farlo proprio là sotto Lontano lontano Questo mob spawner Che ve ne pare eh? Si è fatto giorno E c'è una strega Bene Bene Io muoio sempre contro le streghe No Signora strega È inutile che lei ride È inutile che lei ride in questo modo C'è pure uno scheletro C'è pure uno sch... No 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 Lasciatemi stare Lasciatemi stare Ok La strega mi dovrebbe inseguire tecnicamente C'è una pozzina di regen È una pozzina di regen quella Ecco Mi mancava soltanto il veleno Stupida strega Tra l'altro se l'è tirata anche lei addosso Ok quindi se io adesso rigenero la vita Teoricamente dovrei avere un piccolo vantaggio su di lei Dovrei riuscire a ucciderla Con un altro colpo No 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 Mi lasci stare signora strega Tre secondi di veleno Ok dai vieni Vieni qua Vieni e fatti picchiare Stupida Oh mio dio ma quanta vita c'ha Non voglio uscire allo scoperto Per il semplice fatto che è pieno di scheletri Ora muoio ora muoio ora muoio Sicuramente muoio però l'ho uccisa Ok Ok non importa L'abbiamo uccisa Dove sono? Dobbiamo per forza aggiustare il problema dei mostri Perché stanno iniziando a diventare veramente un grosso grosso problema Prendiamoci anche questa zucca Grazie mille per essere spuntata Anche se non siamo ancora a Halloween Ok ok perfetto Ora dobbiamo veramente sistemare questo problema dei mostri Perché stanno diventando un grosso grosso fastidio Quindi io direi di iniziare a creare questo mob spawner esattamente là sotto E lo facciamo bello largo e bello lungo Così ok Più o meno spuntano sempre qua in questa zona Quindi se io dovessi fare una copertura così più o meno Dovremmo riuscire a bloccarli tutti giusto? Il problema è che serviranno tantissimi materiali ragazzi E probabilmente non ce la faremo in questo episodio Comunque avete capito tutti quanti la mia idea no? Cosa voglio fare Voglio chiudere tutti questi mostri all'interno di questa stanza completamente buia Togliendogli completamente le torce In modo tale che loro non mi possano fare del male E non solo Non possono uscire da qua ovviamente E poi il giorno dopo dovrebbero bruciare tutti quanti più o meno E se non dovessero bruciare allora utilizzerei la lava In qualche modo comunque li fermiamo senza troppi problemi Quindi ragazzi fatemi sapere se è una buona idea Secondo voi sto utilizzando tutti i materiali che ho Perché non posso fare dell'altro Così almeno aggiustiamo questo problema dei mostri Che sono veramente troppi Sono veramente forti Sono fastidiosissimi ragazzi E in questo modo non dovrebbero più darci alcun problema Boom Perfetti perfetti E ora direi di togliere qualche blocchetto qua Perché ci dobbiamo mettere una porta Quindi questo deve andare via Ora ragazzi come vedete qua è completamente senza torce Quindi di notte dovrebbero spuntare tutti i mostri là Mentre invece tutto il resto dell'isola è piena zepa di torce Quindi non dovrebbero spuntare qui E allora io poi il giorno dopo al mattino Quando il sole sorgerà Li potrò uccidere tutti quanti senza alcun problema Quindi fatemi sapere se è un buon piano Perché come vi dicevo Non abbiamo abbastanza risorse per fare un vero e proprio mob spawner Come si deve Dovrei mettermi a scavare tipo centinaia di migliaia di cobblestone Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo mob spawner Lasciate un bel mi piace per questo channel raffreddato con la febbre E dal vostro imperatore è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao